ciao a tutti e benvenuti sul mio canale mamma a colori sono giusi e sono una giovane mamma con la passione per la creatività così ho deciso di aprire questo canale dedicato al fai da te il fai da te in tutte le sue sfumature riguardanti il make up il design il riciclo creativo e le decorazioni per la casa il primo video che ho realizzato è un tutorial dedicato al make up ci trasformeremo in spaventosi di grotti per le nostre feste se vi piace iscrivetevi al mio canale mamma a colori e lasciatemi tante mi piace ci vediamo alla prossima